ti aspettavi la clip di fede you vero piccolo bastardo ok questa clip mi serve perché ho dimenticato di fare tipo sta gag nella clip che ho fatto prima adesso vi lascio la clip che ho fatto prima bella ragazzi guardiamo in cam che siamo su youtube qua non siamo su twitch non stiamo facendo gli stream tantissimo che non faccio un video per youtube però mi viene da guardarmi su bs porco dio non riesco a guardare non posso bestemmiare su youtube vabbè dai non demonetizzeranno il video vero speriamo di no tanto non ce li piglio io i soldi ce li piglia fede you quelli infame e allora benvenuti in questo nuovo video ragazzi questo aspetta questo è il mio primo freebooting primo freebooting che evito faccio io questo perché comunque ragazzi il mio freebooter fede you ormai tanto tempo che è stato assunto dai votari forti cioè la tana del ferito e quindi comunque ci sta deve fare il suo lavoro da freebooter il suo valore è stato riconosciuto e quindi ci sta deve deve fare l'aveo di ribri cioè comunque non è che può permettersi di freebootare un canale molente che tributa il gabrone però però per fare per pubblicarvi quel contenuto serio cioè in verità non è vero ho preso la clip più popolare nelle ultime 24 ore per pubblicarvi quel contenuto ci pensa il gabronoschi il gabrone il gab il molestatore sociale insomma insomma quello che volete ci penso io ragazzi probabilmente questa intro durerà il doppio della clip godetevela ragazzi perché spacca non lo so non l'ho ancora vista adesso la vedo poi è quella con più visualizzazioni nelle ultime 24 ore 41 visualizzazioni la clip si chiama gabrone me la guardo adesso bella raga un bacio guardatevi la clip web non li ho saputi quanti non ho saputi dare valorizzare l'ho buttato ragazzi non studiate non andate alla cattolica non fate un cazzo nella vostra vita venite a comprare il mio corso mattia ruta soli 690 euro e potrete avere la vita dei vostri sogni fidatevi di me ragazzi un po di amazon fba business online solo 690 euro e la tua vita potrà cambiare mi raccomando se vuoi faremi bonifico istantaneo possibilmente grazie scusatemi ma torno di là torno ragazzi un 50 per cento sul mio corso se volete ragazzi ho appena finito di editare la clip cioè in realtà ho fatto due tagli e l'ho fatta e vi ringrazio per averla vista vi ricordo di lasciare un like raga grabbiamo sui like adesso faccio le outro e grabbiamo sui like ragazzi a 3000 like vado ad appiccare un incendio a casa di blur spolliciata ragazzi un bacio al prossimo freebooting ciao iscriviti al prossimo facebook